Con la testa in tribunale, col cuore a Rigopiano. Potremmo riassumere in un certo senso così il 18 gennaio 2023, giornata che segna il sesto anniversario della tragedia di Rigopiano. Dopo giorni di caldo anomalo, la neve, non come quella del gennaio 2017, è tornata a fare capolino sui 1200 metri della frazione del comune di Farindola. Per questo gli agenti di polizia che presidiavano la zona, riscontrata la mancanza delle condizioni di sicurezza, hanno fatto fermare il pullman con i familiari ai piedi della salita, che conduce a quelle che resta oggi dell'hotel. Alcuni parenti, arrivati invece con auto private, hanno raggiunto il totem che segnava l'accesso al resort, ma sono poi state fatte tornare indietro. Così la cerimonia in ricordo delle 29 vittime della valanga si è spostata nella chiesa madre di Farindola. Le richieste di condanna arrivate nel novembre scorso sono un primo tassello verso quella giustizia che le famiglie da troppo tempo, chiedono per i propri cari. Tra i supersiti presente Fabio Salsetta, il dipendente dell'hotel che insieme a Giampiero Parete ha lanciato per prima l'allarme e che sotto la valanga ha perso la sorella Linda, anche lei dipendente. Riguardo alle urgenze puntiamo sempre sulla giustizia, è quello che cerchiamo sempre. E ricordo... Marinella Colangeli era la responsabile della SPA. Il padre Nicola, sempre presente all'udienza in tribunale, nonostante la sua età non più giovane, non ha mai mollato. Grazie alla sua caparbietà, a breve nell'area di fronte al resort sorgerà il giardino della memoria. Io non lo avrò a nessuno, né al peggior nemico, non lo avrò, perché avevano tutto il tempo per salvarli e non l'hanno fatto salvare, l'hanno fatto morire come topi. Come annunciato nei giorni scorsi, per impegni istituzionali assente il premier Giorgia Meloni, a rappresentare il governo il sottosegretario alla difesa Isabella Rauti, che per diversi minuti si è intrattenuta a colloquio con i parenti. Più di una mamma mi ha detto grazie per la sua presenza. Io trovo in questa frase una generosità enorme, perché queste sono mamme che hanno perso i figli o comunque persone che hanno perso i loro parenti, invece io penso che essere qui sia un dovere. Presenti tutti i vertici istituzionali regionali e quelli militari della provincia di Pescara, a rappresentare il soccorso alpino regionale il presidente Daniele Perilli. Per la protezione civile regionale il direttore Mauro Casinghini, che ha parlato della carta di pericolosità delle valanghe di cui la regione Abruzzo si è dotata dopo tanti anni. Perché la pericolosità è un elemento del rischio, non è il rischio. Invece noi dobbiamo calare quella carta a livello locale, per questo è un'attività molto lunga, molto costosa, molto costosa e sicuramente la dobbiamo calare nel tempo, ovviamente partendo da delle priorità. Pioggia forte invece su Farindola, una breve fiaccolata, i nomi ben scanditi ad uno ad uno e la deposizione di rose bianche sotto l'altare. Hanno anticipato la messa ufficiata nella chiesa di San Nicolavescovo da Don Luca di Domizio. Alle 16.49, ora simbolo della valanga, è stato intonato dal coro di Atri il Signore delle Cime e il rilascio di 29 palloncini bianchi a chiudere una giornata intrinseca di emozioni.